Stamane ci stiamo divertendo, vi farò un riepilogo alla fine poi della macchinata. Questo è un bel porcino, qui ce n'è un altro, decisamente passabile, ma soprattutto cosa ci sarà sotto a questo occhietto, proviamo, si alza e ecco cosa c'è, ecco la scoperta. È stata sufficiente per il momento l'acquata di ieri, per poter dare una smossa, hanno le radici comunque molto profonde, evidentemente è stato un segno, come si dice, di arsura. Allora, mi dispiacerebbe spaccarlo, ha le radici addosso, eccolo fuori. Sto ansimando perché non è un posto molto agevole, vi faccio vedere, guardate là, qua di sotto, comunque, sono arrivato da questo punto e ora proseguirò, vi farò un riepilogo. Arrivederci.